Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sono necessarie nuove indagini affinché venga fatta luce sulla morte di Liliana Esinovich. A dirlo è il professore Vittorio Fineschi dell'Università di Roma La Sapienza, consulente incaricato dalla famiglia. L'ipotesi del congelamento è stata esclusa dalla procura ma non si sa perché. Dire che non ci sono prove che sia stato un omicidio non basta a dire abbia fatto tutto da sola. Il corpo di Liliana è stata occultato, sicuramente in un ambiente protetto e chiuso, e non all'aperto. L'ipotesi del congelamento è stata esclusa dalla procura ma non si sa perché. Così il professore Vittorio Fineschi dell'Università di Roma La Sapienza che insieme al dottore Stefano Derrico dell'Università degli Studi di Trieste è stato incaricato dalla famiglia di Liliana Resinovich di effettuare una consulenza tecnica tesa a riesaminare i risultati dell'indagine sulla morte della 63enne che hanno spinto la procura di Trieste a chiedere l'archiviazione del caso. Secondo il consulente dunque il fatto che non siano state trovate prove a conferma dell'omicidio non significa automaticamente che Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, a poche centinaia di metri da casa, avvolta in due sacchi neri, si sia tolta la vita. Inoltre una delle ipotesi più importanti, ovvero il fatto che il corpo sia stato congelato dopo la morte è stata esclusa senza un riscontro scientifico.